Giulio Gaudiano al Festival del Web Marketing qui a Roma, sono in compagnia di William Sbarzaglia. Ciao William, grazie di essere venuto. Allora William è socio di un'agenzia SEO di Ravenna che si chiama Intera e qui al Festival ha fatto uno speech su un grosso brand del quale loro hanno curato il digital marketing e il SEO anche. Allora William, come ci si approccia e come si, vorrei dire, conduce ma utilizziamo anche la parola vende a un grosso brand una strategia di marketing digitale? È proprio l'obiettivo del mio intervento di oggi perché in quanto si tratta di un grosso brand ho cercato di stilare delle linee guida per approcciare un progetto di questo tipo. Quindi il mio obiettivo era quello proprio di trasferire un'esperienza che ho avuto con questo tipo di progetto. Quindi diciamo il primissimo punto è stato quello di dire, ok, servono delle competenze. Infatti ho messo una slide dove proprio si chiamava come ho preso il lavoro. Ho scritto, come immagine c'era un Marines con il Mitra. Ho detto non è che sono andato là all'assalto con il Mitra spianato, servono semplicemente delle competenze. Ma nel mio caso, nel caso appunto di questo cliente, servono delle specializzazioni. Perché va bene per fare un tipo di lavoro come SEO, ma serve avere delle specializzazioni come in questo caso sul loro CMS, cioè sul sistema con il quale è stato creato il progetto web. Ok. Tipo 3 è un prodotto chiamiamolo tedesco, è un open source ma è prevalentemente di nazionalità tedesca, in quanto il Lamborghini del gruppo Audi, Volkswagen, quindi tedesca. Quindi noi siamo specializzati fortemente dal 2002 su questo strumento, sul CMS, quindi abbinato CMS, Tipo 3 e SEO sono usciti a ottenere questa visibilità. Vi siete proposti voi o sono uno di loro a cercare? Allora noi abbiamo avuto, io ho avuto l'opportunità di fare altri interventi, in particolare su SEO 3x3, in un evento in Italia, sia a Bologna che a Milano, che si chiama T3 Camp Italia, in cui appunto si parla di SEO e ho parlato di SEO di 3x3. E nella platea era presente il responsabile del digital marketing della Lamborghini. Perfetto. Siamo entrati in contatto, ci siamo conosciuti, ho fatto anche, chiamiamolo, un'analisi preliminare per far capire qual era la mia idea, quindi ho lavorato un po' sul cercare di dare qualche assaggio di quello che volevo fare e loro hanno recepito e abbiamo fatto questa analisi. Ok, molte volte quando si arriva a iniziare un lavoro per un grande brand, non è che troviamo la tabula rasa o il piccolo titarello che possiamo smontare e rimontare. Troviamo già un contesto molto strutturato dal punto di vista digitale e al tempo stesso delle strategie di marketing tradizionale che già girano un reparto magari molto attivo e quindi ci guarda come quelli dell'online che arrivano e vogliono fare il bello e il cattivo tempo. Allora, da dove si attacca questo mostro? Dalla testa, dalla coda? Quali sono i primi ragionamenti che fai? Sicuramente, diciamo così, che uno può pensare che dietro ci sia chissà che cosa, invece non è detto. Abbiamo avuto la fortuna sicuramente di avere un responsabile, un referente molto sensibile su queste cose e quindi abbiamo lavorato in un momento di rivoluzione del progetto web. Quindi noi siamo arrivati, diciamo così, anche al momento giusto e abbiamo cercato di mettere in atto un piano che non è stato immediato ma va avanti anche da due anni. Quindi abbiamo lavorato su quello in più, quello che ho detto anche oggi nell'intervento, nel momento in cui si è fatto un tipo di lavoro si entra in fiducia e capiscono le competenze e poi si possono fare altri tipi di lavori, di interventi su questo progetto. Quindi in sostanza su questo tipo di strategia. Poi abbiamo, ripeto, la fortuna di avere questa forte specializzazione su CMS Type 3 che è quello che ci ha fatto avvicinare al cliente. Quindi quello che ti aiuta in una seconda fase a lavorare in maniera abbastanza libera è una fase di pianificazione molto accurata all'inizio? Anche, perché all'inizio sicuramente bisogna conoscerci e poi dopo uno fa capire, come ho detto nel mio intervento, se ci sono anche effettivamente degli errori. Dividete l'analisi in errori. Quindi nel momento in cui sensibilizzi molto i clienti dici, qui c'è un errore, correggilo. Questo è un suggerimento, li dividi e poi dopo si va avanti per migliorare tutto. Prima lo si corregge, poi si migliora e lo si ottimizza per ottenere, come ho detto, il sito web, in prevenzio così, deve rispecchiare la qualità dell'azienda. È veramente importante che se il sito web non ha degli stessi standard qualitativi c'è qualcosa che non va, invece c'è molta attenzione su questa cosa. Come integri il tuo lavoro con quello del reparto marketing interno? Allora, internamente io sono a contatto con l'ufficio brand della Lamborghini, quindi si lavora veramente a stretto contatto. Quindi dal momento in cui c'è lo shooting della nuova auto o ci sono dei video che fanno su una piattaforma navale o altro, noi in qualche modo veniamo informati. Abbiamo una specie di linea diretta e accesso anche al materiale. ovviamente ci vengono trasferite tutte quelle che sono le direttive anche per gestire la grafica, le mie stesse slide in qualche modo dovevano rispondere a certi requisiti grafici, dovevano essere con sfondo nero, iscritte bianche, non posso fare una cosa completamente slegata da quello che c'è molta attenzione. E quindi con loro ovviamente c'è questa interazione comunicazione per fare in modo che si vada sulle stesse direzioni da entrambe le parti. E quelli che sono, appunto citavi queste direttive, diventano dei limiti per la tua attività o per te sono anche una sfida nel senso di esercitare la tua professionalità all'interno di paletti precisi. Certo, sicuramente la sfida perché in alcuni casi io ho fatto presente alcune cose che a me sembravano banali dire no, aspetta, sposta e così, no, le direttive sono quelle e ovviamente devi trovare il modo ugualmente di farlo, non devi lasciare così, ah non si può fare e basta. In altri casi forse non sono più dei limiti per me, per il mio lavoro, possono essere dei limiti per uno creativo o magari può avere più limiti in un determinato ambito, però dal punto di vista SEO c'è sempre la possibilità a volte di sostenere noi e dare noi delle indicazioni che venivano poi recepite, questo è il caso del SEO. Poi ho avuto modo anche di presentare sempre oggi l'analisi sull'usabilità dello store online, della Lamborghini, quindi la parte che vende gadget, abbigliamento online, eccetera, quindi sono andato a fornire indicazioni per come ottimizzare l'efficacia del sito web, quindi della conversione ovvero in quel caso lì dell'acquisto online, dei gadget. Tu oggi parli dei Lamborghini e se è vero che porti visibilità alla strategia digital dei Lamborghini, al tempo stesso anche il brand Lamborghini porta visibilità alla tua professionalità. Questo rapporto di collaborazione win-win è in qualche modo regolato da un contratto tra voi, è libero, è basato su una fiducia personale, che consigli dai a chi lavora per grandi brand e poi immagina di poter liberamente raccontare che lavora per loro? Sicuramente il nostro rapporto è regolato, diamo firme su firme perché non possiamo trattare in maniera non accurata il materiale che ci viene consegnato, addirittura alcune attività noi le abbiamo fatte direttamente in sede, non potevamo portarci in ufficio del materiale, usciva la nuova auto, noi le foto, i video le avevamo già viste, le stavamo inserendo sul sito, quindi c'era molta attenzione e molta cura, quindi sicuramente viene regolato da dei contratti. Però per quanto riguarda invece il competitor, anche se c'è una forte di atriba tra Ferrari e Lamborghini, non abbiamo dei vincoli su attività, su competitor, infatti oggi ho citato che grazie alla conoscenza del settore, in questo caso automotive, e ovviamente ci sfrutta anche il nome e il brand, abbiamo avuto modo di prendere un grosso dealer Mercedes in Italia, quindi adesso stiamo realizzando un catalogo di auto online per poterle richiedere preventivi, eccetera, quindi ci ha aiutato sia come visibilità sia come competenze, perché ovviamente non è che diciamo ci siamo e basta, ma sappiamo muoverci in maniera diversa, perché nel momento in cui abbiamo lavorato per Lamborghini, abbiamo dovuto fare dei benchmarking su tutti una serie di competitor. Certo, e poi questi sono spendibili. Guardando un po' gli elementi di strategie di web marketing, dal social, content marketing, social advertising, brand awareness sul sito, come li hai dosati, come pensi si possano dosare per un grande brand? In modo da rendere credibile una proposta, in modo da non arrivare a dire facciamo solo social media marketing, quindi qual è la ricetta? Allora, sempre lì, come dicevo oggi, è in continua evoluzione, quindi quando siamo arrivati c'era un'attività in corso, ma l'obiettivo era aumentare sicuramente la visibilità sui social, quindi c'è stato qualcuno che è stato dedicato su quella parte e dalla parte mia, come ho detto oggi, c'è un'attenzione nella parte di SEO usabilità, perché anche se l'url, per esempio, delle pagine viene ottimizzato a livello di SEO, deve tenere conto che quello che io inserisco a livello di SEO poi viene visto anche nelle condivisioni dei social, quindi anche fare, chiamiamolo, un url più bello è importante. Quindi guadagni terreno, diciamo, piano piano allargando il campo. Sicuramente deve essere fatto di pari pari con gli altri, diciamo, che operano sui social e di conseguenza, viceversa, se si opera a livello di social, si fa un tweet, si fa un video, si mette su YouTube, su Facebook e a qualche altro e c'è presente un link che porta a una landing page o a una pagina specifica del sito, questa porta visite e quindi, come faccio presente oggi, dobbiamo prevedere dei picchi. Quindi noi lo sapevamo che veniva fatta un'azione mediatica di un certo tipo sui social e prevedere picchi di migliaia e migliaia di visite, bisogna essere pronti e quindi pronti significa pensare anche all'infrastruttura, almeno sul trend di hosting, su cloud e in questo caso si è utilizzata la struttura di Amazon. Ottimo. Parliamo anche dello sviluppo, della collaborazione sul piano economico. Che cosa si vende a un grande brand? Si vende un pacchetto, quindi con una collaborazione a preventivo, si vendono delle ore o gli interventi con un consuntivo mensile, trimestrale. Come risulta, come si può costruire un'offerta credibile anche dal punto di vista economico? Sicuramente, anche se parliamo di un nostro brand, prima di dare fiducia, ovviamente c'è dire che deve esistere un percorso, quindi il primo approccio sicuramente con un preventivo ben mirato. Mi stai chiedendo questo, questo è il budget che posso darti per questo progetto, quindi un preventivo. Nel mio caso ho appunto avuto modo di fare l'analisi sul SEO del sito corporate e abbiamo fatto un'analisi anche del CMS type 3, quindi a preventivo. È stato prestato, è stato messo in atto, si sono ottenuti i risultati, dopodiché abbiamo fatto tante cose e a seguire quasi immediatamente abbiamo avuto un contratto di un anno per due giornate uomo a settimana. Quindi questo, poi possono essere fatti dei pacchetti a ore, a consuntivo, dopo nel momento in cui si passa, chiamiamolo, il primo passaggio dell'ottenere fiducia, si fanno vedere le parti di competenze, disponibilità e anche feeling, perché alla fine il fatto è sapete, dobbiamo passare tante ore, non solo io ma tanti miei colleghi, abbiamo passato tante ore con loro, al telefono, di ogni tipo. Adesso racconto un episodio, c'è stato venerdì scorso e allora abbiamo formato una persona interna per poter fare le modifiche, questa persona non c'era, era in vacanza, era ammalata, non mi ricordo, il responsabile non poteva farlo in quel momento, ci ha chiamato noi dicendo mi fate questo favore venerdì sera, noi venerdì sera stavamo facendo una mega festa, perché aveva un ragazzo che partiva, avevamo tutti quanti una mega festa, fare una bracciolata, mangiare, bere, ci ha chiamato e mi ha detto me lo fate, era sera, noi abbiamo detto va bene, con la musica dietro abbiamo aperto i portatti, ci siamo collegati e abbiamo fatto una modifica sullo streaming di una corsa per la Lamborghini Squadra e quindi c'era proprio una passione, anche noi che ci abbiamo lavorato lì, eravamo presenti dentro l'azienda, quando c'era la giornata degli sconti per i dipendenti per acquistare l'abbigliamento lì, noi ci siamo catapultati, abbiamo preso anche noi l'epolo, i vestiti, perché ci teniamo, siamo appassionati, anche noi perché ovviamente argomenti interessanti, insomma, quindi ci deve essere tanta passione. Per le aziende che cercano questa passione, dove possono trovare? A noi. No, dico dove vi trovano? A Ravenna, ci cercano su www.intera.it, a me mi trovano in tutti i social network, LinkedIn, se cerco il mio nome Williams Barzaghi, mi trovano ovunque, anche perché è un nome poco comune, quindi ci siamo. Benissimo William, grazie mille, ciao a tutti e alla prossima. Ciao.